Allora, questo talk si incentra sull'algoritmo di Polyg-Hellman, che è un algoritmo per risolvere il logaritmo discreto, determinate ipotesi, e che servirebbe a rompere lo scambio di cavi di Diff-Hellman. Ma iniziamo un po' con alcune definizioni. Allora, la criptografia si divide in due macro-gruppi. Una è la più antica, e la criptografia chiave segreta. Fino agli anni 70, o poco prima, si è sempre ipotizzato che il miglior modo per comunicare in maniera segreta, quindi o comunque sicura, fosse dare il minimo numero di informazioni alle altre persone. Quindi i cifrali o i criptosistemi erano tutti a chiave simmetrica, a chiave segreta, o anche detti criptosistemi simmetrici. Cioè, la chiave per criptare e decriptare era sempre la stessa, diciamo, o comunque ricavabile l'uno dall'altro. Alcuni esempi classici sono il cifrario di Cesare, che lo conosciamo tutti, e DES, che è nato negli anni 70 ed era un cifrario simmetrico molto più complesso di quello di Cesare, ma comunque simmetrico. La problematica di questo cifrario è che bisogna passarsi la chiave in qualche modo, in maniera sicura. Poi c'è, è nata la criptografia chiave pubblica, o criptografia asimmetrica, intorno agli anni 70, è cambiato proprio il modo di vedere i criptosistemi. Non c'è più un'unica chiave che serve a criptare o decriptare, ma ci sono due chiavi, una pubblica per criptare il testo, e una segreta privata dell'utente per decriptare il testo. Questo ha influenzato molto la criptografia futura. Un esempio di criptosistema asimmetrico è RSA, nato anche quello negli anni 70, e tutto l'ho utilizzato. Questo è un esempio di protocollo in cui non c'è bisogno di uno scambio di chiavi. E' un esempio per mostrarvi come la criptografia asimmetrica, in cui prima bisogna scambiarsi le chiavi, non è l'unica esistente. Allora, qui è molto semplice, c'è una scatoletta, l'utente A mette il suo messaggio, lo chiude con il suo lucchetto, lo invia a B, che a sua volta lo chiude con un altro lucchetto, il suo, lo rinvia ad A, che è la scatoletta, non può aprirla adesso, anche se lui ha messo il messaggio all'inizio, non può aprirla perché c'è il lucchetto di B, invia di nuovo a B e B può leggere il messaggio. Notiamo quindi che non c'è uno scambio di chiavi tra i due tenti, ma riescono a passarsi un messaggio senza dover aprire la scatola. Allora, i due paper fondamentali sono nel 76, è partito il microfono? Prova, prova. Ok. Ok. Nel 76, due importanti crittografi, Diff e Hellman, hanno pubblicato questo paper, in cui proponevano intanto un modello per scambiarsi le chiavi, in maniera sicura, quindi risolvendo un problema molto vecchio che era quello della crittografia simmetrica, appunto che bisognava trovare un modo, un canale sicuro per scambiarsi la chiave, e accenano per la prima volta all'ipotesi, quantomeno, di possibili crittosistemi a chiave pubblica, che verranno in realtà proposti due anni dopo, se non sbaglio, uno o due anni dopo, vengono ideati e poi proposti appunto da RSA e altri, ma RSA è il più famoso. Nel 78 invece Hellman con un suo allievo, un polyg, pubblica un altro paper in cui riescono a calcolare il logaritmo discreto in tempi utili sotto determinate ipotesi, rompendo la sicurezza quindi del Diff e Hellman. Vediamo, diamo un accenno intanto, per lavorare sul poly-Hellman ci vogliono alcune definizioni, purtroppo ce ne farebbero di più, le comprimo e cerco di semplificare la matematica. Allora, cos'è un gruppo? Un gruppo è un insieme dotato di un'operazione, o l'operazione è tipo la somma, il prodotto, potete immaginarla così, e soddisfa quattro proprietà, la chiusura, cioè A per B rimarrà sempre appartenente a G, la proprietà associativa, che è quella delle parentesi A più B, chiuso tra parentesi più C, uguale, spostiamo le parentesi, l'identità, cioè c'è un elemento identità, A per 1 uguale A, e c'è un elemento inverso, cioè A per A alla meno 1 darà l'elemento identità. Queste quattro proprietà devono essere soddisfatte da tutti i gruppi. Una cosa interessante è che un insieme può essere un gruppo con una determinata operazione, ma non con un'altra. Cos'è un gruppo ciclico? È un gruppo generato da un singolo elemento. Un esempio pratico di gruppo ciclico, che è un gruppo ciclico infinito, ma è sempre un gruppo ciclico, è Z quando lo dotiamo dell'operazione somma. Praticamente tutti i numeri interi si possono scrivere come somma di 1, o cambiando il verso, facendo meno 1 più meno 1 più meno 1, otteniamo tutto Z. Ok, questo è lo scambio di chiavi di Fihelman proposto nel loro paper, che ha praticamente spaccato in due la crittografia moderna, dando via proprio al futuro della crittografia. Allora, abbiamo due utenti, Alice e Bob, che scelgono un gruppo G di ordine N, e scelgono un generatore di questo gruppo. Quindi abbiamo che il gruppo G è ciclico. Abbiamo anche che è finito, perché è di ordine N. Alice sceglie un numero casuale nell'insieme 0, N-1. Ovviamente ho scritto casuale, però si cerca di evitare determinate scelte troppo facili. e invia l'elemento X che è uguale a G elevato all'A a Bob. Bob fa la stessa identica cosa, cioè sceglie un elemento B a caso nello stesso insieme di A, calcola G alla B e lo invia ad Alice. Alice e Bob alla fine elevano... l'elemento Alice eleva Y, cioè G alla B, lo eleva all'A. Invece Bob eleva X che è A alla B, ottenendo lo stesso valore. Quindi hanno ottenuto il medesimo valore che è la loro chiave, che potranno poi utilizzare dove? In un crittof sistema simmetrico. Quindi di solito è comoda per scambiarsi le chiavi di DES, per esempio. O meno, lo era. Questo è un esempio, un'immagine presa da Wikipedia, che fa l'esempio con i colori per spiegare come funziona. Appunto Alice e Bob scelgono un colore in comune, hanno il loro colore segreto, si scambiano il prodotto dei colori, a questo punto calcolano nuovamente la potenza e ottengono il colore in comune. Ok. Su cosa si basa la forza del Diffie-Hellman? La forza del Diffie-Hellman si basa sul problema del logaritmo discreto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Diffie-Hellman è forte tanto quanto il problema del logaritmo discreto. Cos'è il problema del logaritmo discreto? Il problema del logaritmo discreto è dover calcolare il numero intero A, cioè la potenza, dato X e la sua base G. Risolvere questo logaritmo non è molto facile a livelli di costi computazionali, cioè, anzi, per determinati numeri, cioè molto grandi, è impossibile risolverlo. Se qualcuno, per esempio, malintenzionato, riuscisse a intercettare lo scambio di numeri X e Y, cioè G alla A e G alla B, avvenuto tra Alice e Bob, se anche riuscisse a intercettarlo e tentasse di calcolare quindi il segreto di Alice, che è l'elemento A, non può riuscirsi. Perché? Perché il problema del logaritmo discreto è molto costoso. Però quando è che è molto costoso? Quando n è molto grande. Perché se noi prendiamo un gruppo piccolo con un n piccolo, tentiamo tutte le competizioni e quindi riusciamo in qualche modo a trovare l'elemento A. Quindi una caratteristica fondamentale dell'ordine n del gruppo del Diffie-Hellman è che n sia molto grande. Questa è la prima. Adesso introdurrò l'algoritmo di Polly-Hellman da un punto di vista matematico, cioè spiegherò come mai funziona bene. Ci vogliono alcuni prerequisiti. Ho cercato di limare i concetti e renderli più semplici possibili. Allora, un gruppo ciclico di ordine n è isomorfo a Zn+. Che cos'è? E' il gruppo delle classi modulo resto di n dotato dell'operazione somma. Cosa vuol dire? E' un gruppo di elementi che vanno da 0 a n-1. quando si sommano gli elementi e si supera, si arriva a n, si riparte da 0, e appunto è dotato dell'operazione somma per essere un gruppo. Calcolare il logaritmo discreto di base G dove G è il generatore del nostro gruppo G equivale a trovare l'isomorfismo tra il gruppo G e Zn dove il nostro isomorfismo manda G nell'unità di Zn. Quindi questi due problemi sono simili. Risolvere uno dei due è equivalente. Un altro periquisito è questo che è bruttino visto così ma lo semplifico. L'ordine del gruppo N N1 e N2 sono due fattori di N e sono coprimi tra loro cioè vuol dire che il massimo comune di divisione in comune è 1. Adesso in G si riescono a trovare questi due sottogruppi H1 e H2. Esistono, ci sono non c'è la dimostrazione perché ho deciso di saltare le parti più tecniche. Si definiscono due omomorfismi che vanno da G in H1 e da G in H2. A questo punto è possibile definire un isomorfismo tra gruppi tra G e il gruppo prodotto H1 e H2. Quindi cosa stiamo creando? Abbiamo appena creato un isomorfismo che cos'è un isomorfismo? è un'applicazione che manda tutti gli elementi del gruppo G nel gruppo H1 per H2 rispetto a determinate buone proprietà ad esempio manda l'unità di G nell'unità di H1 per H2 ed è invertibile perché questa è la comunità cioè mappa tutti gli elementi di un insieme nell'altro e si può fare anche il viceversa. È poco formale come spiegazione ma per farvi capire questo è un diagramma commutativo prima abbiamo definito questo lambda qui abbiamo detto se vogliamo calcolare il logaritmo discreto dobbiamo trovare questo isomorfismo tra gruppi quindi sappiamo che questo è un isomorfismo abbiamo detto che anche questo è un isomorfismo tra gruppi cioè una mappa appunto che mappa gli elementi di G in H1 per H2 questo qui è un altro isomorfismo è molto semplice abbiamo definito lambda come isomorfismo che manda G in Zn H1 e H2 hanno a loro volta degli ordini cioè l'ordine di H1 è N2 e l'ordine di H2 è N1 se ricordo bene come li ho scritti e quindi questo non è altro questo lambda 1 non è altro come questo lambda qua solo che manda H1 in Zn1 è uguale per H2 quindi questo è un isomorfismo che manda H1 per H2 in Zn1 per Zn2 qui non ho scritto cos'è ma prendetelo sulla parola praticamente grazie a siccome N1 e N2 erano coprimi grazie al teorema cinese del resto esiste un isomorfismo tra anelli Zn è il prodotto Zn1 e Zn2 e quindi anche un isomorfismo tra gruppi quando si prende appunto il gruppo moltiplicativo cosa abbiamo fatto noi praticamente? abbiamo deciso di prendere questo che risolve il logaritmo discreto questo isomorfismo e scomporlo in queste tre frecce invece che affrontare questo percorso affronteremo il percorso più lungo perché è comodo questo? perché su questi due sottogruppi c'è un ordine più basso un N più piccolo quindi è più comodo lavorare con N più piccoli ok quindi la prima parte del polielman la si può riassumere così ovviamente avevamo detto che l'ordine abbiamo un gruppo ciclico G di ordine N che può essere scomposto in N1 per N2 coprimi abbiamo questi due sottogruppi di ordine N1 e N2 e cosa diciamo? che il logaritmo discreto di un elemento X del gruppo G può essere calcolato velocemente quanto il logaritmo discreto di un elemento del sottogruppo H1 e di un elemento del sottogruppo H2 quindi abbiamo deciso che invece di lavorare su G lavoreremo su due sottogruppi con ordini più piccoli e otteniamo un algoritmo veloce uguale quindi se possiamo generalizzare questo risultato non solo a N1 e N2 ma siccome in tutti i numeri naturali si fattorizzano come prodotti di primi al più elevati a potenza appunto semplicemente avremo più N tanto i numeri primi sono tutti coprimi tra loro e quindi basta ingrandire poi il risultato di prima a N quindi otteniamo un'altra proprietà che deve avere il numero cioè l'ordine del gruppo scelto per lo scambio di chiavi e cioè che la più grande potenza del numero primo che divide l'ordine del gruppo deve essere grande cioè il P elevato alla RI almeno uno deve essere molto grande ok questo potrebbe non bastare comunque c'è una parte 2 del poli-Hellman che dice questo abbiamo un gruppo ciclico stavolta N uguale a P elevato alla R dove P è un numero primo allora calcolare il logaritmo discreto di un elemento X del gruppo G equivale a calcolare il logaritmo discreto in un sottogruppo di ordine P R volte quindi cosa significa questo? che se noi abbiamo questo N che è molto grande ma questo sì questo N che è molto grande ma semplicemente ma questo P è molto piccolo e abbiamo che solo R è grande questo comunque non è un buon numero infatti noi vogliamo che il numero primo che divide l'ordine di G sia molto grande non basta che la sua potenza sia molto grande cioè 2 elevato alla 54 è molto grande come numero ma non è sufficiente perché 2 è un numero primo piccolo ok come funziona l'algoritmo di Pauli-Hellman purtroppo questo è un riassunto compatissimo cercherò di spiegarlo normalmente i gruppi che si scelgono hanno ordine primo per diversi motivi una comodità è la funzione di Olero e appunto è che ci dice che l'ordine del del gruppo sarà P P-1 questo P P-1 non è un numero primo ovviamente è un numero che si può scomporre in alti primi per risolvere per risolvere per attaccare Diffie-Hellman o comunque per tentare di risolvere Diffie-Hellman attraverso Pauli-Hellman dobbiamo seguire lo schema di prima quello del quello del quello del diagramma con le tre frecce quindi risolveremo prima tutte queste disequazioni poi applicheremo il teorema del resto cinese e infine troveremo una soluzione perché ci viene assicurata dal teorema del resto cinese adesso io ho citato il teorema del resto cinese almeno due volte e ci sono queste sei ed equazioni che non sono ben spiegate ma ecco qua così le possiamo vedere un po' meglio ci sono un po' di sommatorie spiegano come affrontare queste equazioni che in realtà sono sì equazioni modulare di algebra modulare perché questa qui ho usato l'uguale ma ogni tanto in alcuni libri potete trovare un triplice uguale cioè un altro segnetto qua sotto allora noi andiamo a risolvere questa congruenza praticamente dobbiamo trovare questo X abbiamo modulo P modulo P alla RI allora come funziona come come si si approccia a questo problema XI lo possiamo scrivere come una serie di una serie di P elevata alla J dove J varia tra 0 RI meno 1 e CJ che sono dei numeri compresi tra 0 e P meno 1 a questo punto si reitera sempre lo stesso procedimento cioè si scrive questa formula qua dove C0 è il primo inizio che andremo a calcolare e pian piano conoscendo il generatore andremo a calcolare Y e riteriamo così perché poi passiamo a YJ e così via questo è come si affronta il primo step del Polichelman il teorema del resto cinese risolvere tutti quei problemi ci darà tante tante equazioni praticamente questo insieme di equazioni va poi risolto cioè bisogna trovare una soluzione che vada bene per tutte le equazioni quindi il teorema del resto cinese afferma che questa è una delle tante versioni che si trova perché poi il teorema del resto cinese si può applicare anche a ideali e teoria un po' più elevata ma comunque abbiamo P1 PR che sono numeri coprimi cioè sono coprimi tra loro quindi P e Pj sono coprimi così via per ogni I e per ogni J allora il sistema di congruenze o equazioni modulare x uguale C mod P per tutti i P quindi qua abbiamo un determinato C e poi un altro P ha un'unica soluzione mod P cos'è P? è il prodotto dei miei P scusate quindi tornando un attimo indietro risolviamo queste equazioni con un semplice algoritmo otteniamo quindi un sistema di congruenze e risolviamo quel sistema di congruenze col teorema del resto cinese che ci darà un'unica soluzione ok abbiamo detto prima grazie al al diagramma e al Poli-Hellman che il numero primo del gruppo deve soddisfare determinate caratteristiche il gruppo l'n deve essere grande e deve avere un numero primo P grande che lo divida addirittura sarebbe comodo che c'è una potenza di questo numero che sia a sua volta grande quindi come si può riassumere l'ordine come può essere preso un ordine del gruppo per il Diffie-Hellman deve avere determinato lo si chiama numero primo sicuro e deve avere questa caratteristica qua cioè il numero primo scelto per il Diffie-Hellman deve essere primo e a sua volta sottraendogli uno e dividendolo per due bisogna ottenere un altro numero primo molto grande in modo tale che non ci si trovi ad avere uno smart number cioè un numero che è fattorizzabile in tanti primi ma piccoli tra loro e quindi il problema del logaritmo discreto si può rompere attraverso il Poli-Hellman il titolo di questo talk riguardava appunto i numeri primi di Fermat che in realtà ce ne sono davvero una manciata penso tutti gli altri sono in fase di ricerca anche se si pensa che non ce ne siano cos'è un numero di Fermat? un numero di Fermat è un numero in questa forma qua come vedete sottraendogli uno otteniamo una potenza di due una potenza di due anche se molto grande non è un buon numero per il Diffie-Hellman perché? perché due è un numero primo piccolo quindi l'algoritmo in Poli-Hellman correrà molto velocemente infatti fn non è un numero primo sicuro questo è un esempio del Poli-Hellman applicato cioè il calcolo del logaritmo discreto ho scelto f2 che è 17 perché è piccolo si può calcolare perché a mano è un po' più lunga la macchina però ci impiega poco anche con numeri più grandi ho scelto 3 come generatore del mio gruppo ho scelto che voglio trovare l'x tale che 3 elevato alla x mi dia 8 cosa faccio? scompongo cioè riscrivo il mio x che è la potenza come sommatoria di potenze di 2 fino all'ordine 3 ovviamente gli elementi c valgono solo 0 o 1 quindi non abbiamo neanche costi nel cercare vari chip che sono solo uno o l'altro e inizio a reiterare il logaritmo di Poli-Hellman purtroppo l'ho fatto in forma molto compatta ho una lavagna però mi trattengo ok abbiamo questo il numero 8 che è quello appunto scelto iniziale il nostro y lo eleviamo all'inizio a cosa? a P la meno 1 cioè a 16 e poi lo dividiamo per 2 2 cos'è? 2 alla 1 in questo caso si potrebbe formalizzare tutta la scritta però purtroppo non l'ho fatto a questo punto si trova che 8 elevato alla 2 alla terza è uguale a 1 mod 17 quindi quale C0 può andare qui che soddisfa questa equazione ovviamente C0 deve essere uguale a 0 perché 3 alla 0 fa 1 e quindi risolviamo il primo passo ripetiamo reiteriamo il secondo passaggio più o meno simile solo che avremo che qua abbiamo P-1 diviso 2 alla J più 1 rispetto al passaggio precedente vediamo che questo numero qua mod 17 è uguale a 16 quale C soddisfa questa congruenza C uguale a 1 e quindi C1 uguale a 1 ripetiamo questo passaggio fino a ultimare non a particolari costi perché qua abbiamo solo due numeri e 2 è un numero primo piccolo e otteniamo cosa? otteniamo che C1 deve essere uguale a 1 e C3 deve essere uguale a 1 quindi la nostra X sarà semplicemente uguale a 1 per 2 più 1 per 2 alla terza cioè 10 e abbiamo risolto così un esempio appunto applicato il numero di Fermat del logaritmo discreto con Poli-Hellman che è molto veloce e non funziona bene con tutti i primi appunto anche se nel 76 all'inizio non si era pensato appena proposto questa è la bibliografia è un QR code perché ho compresso tutto quanto ci sono all'interno alcuni pdf utilizzati e altri link utili sull'argomento domande? domande? sì trovare lambda è allora abbiamo che G è un gruppo finito ed è ciclico non vuoi trovare solo un isomorfismo tra i gruppi vuoi trovare un isomorfismo che mandi il generatore del non ho capito la domanda non proprio non si utilizzano no allora l'idea di trovare l'isomorfismo tra gruppi utilizzando il gruppo additivo ZN è semplicemente sul fatto che per trovare il logaritmo discreto tu prendi e fai tutti i generatori e lo levi a potenza tutte le volte finché non arrivi all'ordine e per trovare quell'isomorfismo lì cosa fai? tenti finché non riesci a dare a tutti gli elementi lo stesso ordine e quindi per quello trovare il logaritmo discreto in cui vada a trovare l'isomorfismo non riesci a trovare quell'isomorfismo più velocemente e non puoi calcolare il logaritmo discreto più velocemente di N che è l'ordine del giro cioè tu hai bisogno di perché allora quella lambda lì è generico quindi parliamo di un gruppo generico N con ordine N e tu non sai ancora che N ha quindi l'idea è che hai un gruppo N e vuoi trovare quella lambda lì come fai a trovare il logaritmo discreto semplicemente lo tenti più volte cioè trovi il generatore e lo ritendi trovare quel lambda lì è più o meno la stessa cosa anzi è la stessa cosa la mia domanda è di fronte a un problema concreto di risolvere quell'equazione N uguale aspetta ti porto allora dimmi questo o vuoi andare in un'altra slide no non importa quando ho g alla x uguale a qualcosa ok g alla x uguale a io voglio trovare quell'x come faccio a sapere che quel problema è tanto difficile quanto di sicuro è meno difficile che trovare cioè di sicuro ho trovato il mesomorfismo cioè quando ho fatto tutte le possibilità ho risolto anche quel problema ma come faccio a sapere che non c'è un modo più veloce per risolvere quel problema ma che non comporta passare tutte le infatti Polielma sta dicendo questo all'inizio si pensava che fosse così cioè vado e tento tutto quanto praticamente Polielma dice no non è così perché per determinati numeri io posso calcolare più velocemente questo fare il calcolo del logaritmo discreto più velocemente di quanto non farlo appunto a tentativi se però il numero primo se il numero scelto è un numero con determinate proprietà tu ti ritroverai comunque a farlo a tentativi per esempio per un numero primo molto grande che ha la proprietà che è P-1 uguale a 2 volte un numero primo altrettanto grande a lì non puoi andare non c'è una tecnica che vada più veloce dell'andare a tentativi cioè non c'è una tecnica migliore per ora e poi verrà trovata è per ora per ora il logaritmo discreto non è risolvibile in tempi utili accetto in alcuni casi che quel numero là è sicuro mi stai chiedendo questo ok semplicemente per esclusione cioè per ora è che Poli-Hellman calcola velocemente il logaritmo per questi numeri qua quindi io prendo un numero che non sia calcolabile velocemente dal Poli-Hellman però è perché il logaritmo discreto è considerato non risolvibile non è dimostrato che è non risolvibile e questo è il punto come molti problemi di come la fattorizzazione noi consideriamo i problemi di fattorizzazione non risolvibili per ora in realtà se uno lo risolvesse buttiamo via tutto quello che abbiamo scritto con ora eh? ah i risolvibili in tempi non polinomiali sì però se uno si è collegato a questa no la fattorizzazione ho preso un altro esempio ho pensato all'RSA è un altro tipo di problema molto forte cioè fattorizzare un numero è un richiede algoritmi che comunque lenti sono costosi però noi ipotizziamo cioè noi diciamo adesso non è risolvibile diamo per cioè pensiamo che non sia risolvibile però non è non è certificato per ora si è tentato così tante volte di risolverlo e nessuno si è ancora riuscito che si ipotizza sia non risolvibile come i numeri primi di Fermat ci ho detto che ce ne sono una manzata per ora è vero non è non è dimostrato che non ce ne siano altri però finora li hanno calcolati così grandi e così tanti che non è si ipotizza non ce ne siano altri però non è una certezza quindi si basa su questo un problema aperto altre domande? no? Grazie.